Nel giro di poche ore i poliziotti della questura di Lecce hanno chiuso il cerchio sulla gambizzazione avvenuta lunedì mattina davanti al bar New Caffè dell'Angolo di Via Le Grassi. Nelle scorse ore è stato fermato il presunto esecutore della sparatoria. Si tratta di Giuseppe Calcagnile, di 40 anni, del posto condotto in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Un'operazione Lampo condotta dagli agenti della squadra mobile di Lecce e dai colleghi della sezione investigativa del servizio centrale operativo. Determinanti ai fini delle indagini si sono rivelate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del bar e quelle dell'Euronics che si trova proprio di fronte alla caffetteria. Dai fotogrammi analizzati è stato possibile osservare il quarantenne che a bordo di una moto si è avvicinato alla vittima, Cristian Salierno, seduto al tavolino del bar a consumare un caffè insieme ad altri due conoscenti, esplodendo poi due colpi di arma da fuoco e ferendolo gravemente alle gambe. Un episodio che per la sua gravità e modalità di esecuzione ha riportato alla mente l'agguato mortale di appena due settimane addietro a Casarano. Ed è per questo che il prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ha convocato d'urgenza un vertice su ordine e sicurezza pubblica. Presenti tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine oltre al sindaco Carlo Salvemini. Io ritengo che ogni qualvolta ci siano episodi di una certa gravità e che non vanno assolutamente mai sottovalutati, men che meno in questo caso, per le dinamiche, per cui abbiamo tutti insomma avuto una notevole impressione per il fatto che l'evento si sia consumato in centro cittadino e anche in orario chiaramente in cui c'è molto traffico. E questa è una cosa che sicuramente fa leggere da un lato la risposta immediata delle forze dell'ordine, ma è importante questo tavolo con il sindaco e il rappresentante della provincia per fare il punto della situazione sul contesto sicurezza, perché oltre alla sicurezza come dire, data dai numeri, cioè la sicurezza reale data dal numero dei reati che non è in aumento, però c'è un concetto importante di sicurezza percepita per cui i cittadini devono essere messi in condizione di sentirsi sicuri e sotto questo aspetto dobbiamo elaborare l'intesa tra tutte le parti presenti, anche con le polizie municipali e con un coordinamento sempre più stretto e si manifesta in questa maniera, probabilmente per il controllo di una piazza di spaccio o per qualsiasi altro motivo, ma c'è sempre una reazione costante, immediata, coordinata da parte delle forze dell'ordine, coordinata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza che è il prefetto come anche dell'autorità giudiziaria.